E' una storia talmente consolidata che rischia ormai di non fare più notizia. Piove e Palermo si allaga e in alcune zone è di nuovo caos e disagio su tutte le erbogate marinare. A Mondello e a Partanna decine di auto sono rimaste bloccate a causa dell'allagamento che si è determinato con la forte pioggia. Residenti e commercianti hanno chiesto di staccare l'energia elettrica per la presenza d'acqua nei piani bassi. Diverse persone hanno avuto difficoltà a rientrare nelle proprie case a causa dell'acqua che si è riversata in strada, mista a melma, fiori usciti dai tombini, che sono scoppiati per il troppo afflusso di acqua piovana. Il temporale ha interessato tutta la costa, da Villa Abate fino a Mondello, con una vera e propria bomba d'acqua che si è riversata con forza in tutta la costa. Decine le telefonate ai vigili del fuoco e il maltempo ha poi interessato pian piano anche il resto del capoluogo siciliano. Disagi a causa del maltempo anche a Ficarazzi, allo Zen, sulla Palermo Agrigento, tra Villa Abate e Misilmeri, dove si sono formati chilometri di coda per allagamenti nella zona di Villa Abate e Portella di Mare e per i lavori di rifacimento dell'asfalto. Molti automobilisti, inculonati in direzione Agrigento, hanno fatto retromarcia, cercando di tornare nel capoluogo. Grazie.